Sì, nomi per favore. Io sono Shinobi. Io sono Tommaso. Shinobi e Tommaso, come vi sentite prima di un'intervista? Male. Io a sedere. Definiteci il vostro genere. Beh, diciamo rock con diverse influenze. La base è il rock. Ma diciamo che il rock è influenzato da tutte le sostanze e assumiamo la serie a sui personali. Ragazzi, meglio cover o pezzi vostri? Pezzi nostri. Fateci un urlo. Ragazzi, cosa pensate dei reality musicali? Che di reality c'è un po'. Una merdata pazzesca. Siete a favore o contro? E vi dico a cosa. La disco, la vi meta, al festival di Sanremo, la gnocca e Dall'Oed Illegale. Chiaramente siamo contrari alla gnocca, quindi questo va tutto bene. Perfetto, Shinobi. Senti, più Vasco o Ligabue? Vasco. Eh? Eh? Vasco. Ma nessuno dei due. Dateci un nome di un gruppo o un artista preferito. Il? Un artista o un nome di un gruppo preferito? Uno? Io direi Muse. E lei, Shinobi? Volvang, Avvedeo, Mozart. Che cosa vi aspettate da questo Rock Tower Fest? Ma una bella serata di vera musica. Un day. Per cosa hai iniziato a suonare? Quella figa. E lei, Shinobi? Sapendo in che fare la sera. Il tuo primo pensiero prima di salire sul palco? Spacchiamo tutto e scegliamo. Quando vi rivedrete in questa intervista, cosa penserete? Stiamo sempre piaciuti. Un consiglio dareste a chi ti sta guardando adesso? Se vai nulla a fare. Ok, allora ragazzi, vi aspettiamo e vi salutiamo con il vostro motto. Il vostro motto, ragazzi? Non mi sento. Ho deciso che domani smetto. Bellissimo, ragazzi, mi raccomando, venite tutti al Rock Tower Festival al Poggione a San Casciano e vi aspettiamo per far vincere i Rock Radio Social Sound. Vai. Buonasera, ragazzi. Come vi chiamate? Io sono Lance Jones. Non mi è Lance Jones. È Giorgio Guita. Giusto, è vero. Noi ci scambiamo spesso. Come vi sentite prima di un'intervista? Diciamo abbastanza rilassati. Se ne fanno mai. Infatti è per quello. Definite il vostro genere. Un Rock, diciamo, teatrale. Non posso fare far metal. Quindi è un metal teatrale.